M'hai detto? M'hai detto? M'hai detto? Io catturerò i nemici di mio fratello e li distruggerò! Eccolo di prima della prossima settimana! Grossi! Grossissimi guai! Il trio del rumbo è deciso di darci nel filone trascine! Sono Sempiorone 2, il ritorno! Sono Yotta Pelicano! Oh, chi è? Quello c'è l'accia! Quello è Yotta Pelicano, l'ultima creazione di Yotta 1! Ed è pronto a combattere! E poi... Avanzato! E' che mistro il mio vestito di bianco! Stava cercando marito? Siamo pronti a superare qualsiasi avversità, per la pace nel mondo! Avviate cura di voi! A presto! Obedisci al re o verrai punito!